Ma oggi c'è stata un'altra uscita di Beppe Grillo sul suo blog e come si è capito poi dalle prese di posizione dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle è una proposta ufficiale del Movimento stesso. È una proposta che riguarda la creazione di una giuria popolare contro le balle di stampa e televisione. Avete capito bene una giuria popolare. Ora ci sarà tempo di parlare nel merito di questa proposta di Grillo e del Movimento 5 Stelle ma c'è qualcos'altro e se permettete mi alzo per mostrarvi di che si tratta. Questo è quello che c'è scritto sul blog. Andiamo pure a tutto schermo. Giornali e tv sono i primi fabbricatori di notizie false nel paese con lo scopo di far mantenere il potere a chi lo detiene. Ecco permettetemi di dire che questa è una solenne fesseria. Non si può dire che i giornali e i telegiornali sono i primi fabbricatori di notizie false nel paese con lo scopo di far mantenere il potere a chi lo detiene. Per di più la cosa ci tocca direttamente perché come vedete tra i simboli, i loghi dei telegiornali c'è anche quello del nostro telegiornale. Allora siccome dire che siamo fabbricatori di notizie false nel paese è un'offesa al nostro lavoro, è al lavoro di tutte le persone, giornalisti e non, che fanno questo telegiornale, ma per di più con uno scopo truffaldino, quello di far mantenere il potere a chi lo detiene, una diffamazione nella diffamazione. E noi in attesa che esista questa giuria popolare per vedere cosa succede, intanto siccome esiste già la giustizia in Italia, penale e civile, abbiamo deciso di querelare per diffamazione il garante del movimento, cioè Beppe Grillo, cioè l'autore di questo testo. Non possiamo consentire in nessun modo che la linearità e soprattutto la correttezza dal punto di vista etico delle nostre scelte venga messa in discussione direttamente rappresentando il nostro logo. Beppe Grillo potrà fare tutto quello che vuole, può venire direttamente o mandare dei suoi emissari della nostra videoteca che è a sua disposizione. Se troverà qualcosa che suffraghi questa tesi, vincerà la causa. Se no, il ricavato in sede di quanto eventualmente il giudice disporrà in sede civile andrà a favore delle popolazioni terremotate del centro d'Italia. Ma noi ci teniamo a un aspetto importante. Se ci state seguendo è perché sapete che facciamo compassione, magari faremo anche degli errori, ma compassione e dedizione assoluta al nostro lavoro e non permettiamo a nessuno, l'ha scritto Grillo, l'avesse scritto chiunque altro, avremmo agito nello stesso modo di mettere in discussione il lavoro di tutti noi. E siccome ne sono responsabile ai sensi di legge, toccava a me spiccare la querela. Andiamo avanti con il giornale, scusate per questa piccola passerella.